Ci comportiamo secondo il nostro senso di giustizia. Quello che io ho fatto al villaggio della Foglia non è molto diverso da quello che tu vorresti fare a me. Il mondo conoscerà il dolore. Shinra Tensei! Bene, iniziamo. Non farti illusioni, Kabuto. Il mio potere non è una tua creazione. Ti prego, promettimi che ti prenderai cura di Rimix. Te lo prometto Kakashi